amici di mondo fussa l'appassionati di calcio 5 la più cordiale buonasera da Daniele Porcelli vi parla dalla palestra dell'idis Ferentino quinta giornata del girone di ritorno si affrontano le formazioni della M Ferentino e la mina gli ultimi ragguagli anche tra colleghi direttori di gara e c'è il semaforo verde si parte proprio in questa sfida che consiglio tra il tecnico Salustri e il giocatore Iguatashi la palla messa in mezzo scaccia prova ad andarsene al centro ci prova sul palo invece c'è la risposta di Molitierno adesso all'indietro di russa riceve dal calcio andato si gira Iguatashi la palla che va sopra la traversa di un niente la presa sicura da parte di Molitierno che facendo poi a Morena di allungarsi con la testa il tocco Sant'Aliestra adesso lo scambio in area c'è la possibilità Campoli si lamenta per un fallo non concesso di Ruzza c'è Datti la conclusione subito verso Rossi di Ruzza apre per Rossi poi a sinistra ad aprire per Petrucci Fradini in avanti Moreira Fradini il tiro ribattuto da Toti una vena realizzativa importante arriva il fischio carica il tiro Moreira la finta verso Alex Alonso uno schema si libera di Rossi sale Alex Alonso ancora la finta si accentra il tiro e Toti ma da sopra la traversa scaccia se ne va in area la possibilità per il tiro e c'è il gol il avventaggio con il numero 7 stiamo parlando naturalmente di di Ruzza Antonio all'indietro palla recuperata da Campoli sale scaccia la botta Fradini vicino a lui preferisce dare il pallone bene lontano e Petrucci il pareggio della Mirafin ci pensa Petrucci con la fiondata Iwatashi nulla di fatto va a recuperare proprio in questo istante al difensore della Mirafin Iwatashi all'indietro Campoli ci prova a toccare di Ruzza invece poi scaccia verso Iwatashi difende il pallone lo protegge molto bene prova la soluzione da parte del giocatore del Ferentino adesso c'è il capovolgimento di fronte Toti la difesa Fradini il tiro la risposta ancora di Toti si dispera Moreira a questo punto Rossi la finta con il corpo poi il tiro e in due tempi Molitierno calma gli dice Ruzza Moreira gli soffia il pallone la fiondata poi si allontana Rossi sarà Piccirilli la sua rincorsa tirerette il vantaggio di Piccirilli Matteo chiamasse il pallone Fradini al centro Moreira si gira arriva Fradini ancora Alonso di Ruzza recupera il gol la doppietta per Petrucci ha raccolto è avanzato e ha fatto partire il tiro e il gol del pareggio Petrucci Sant'Aliestra trova soltanto l'esterno della rete il brivido però che gira a questo punto a sinistra verso arco poi il tiro il gol di Fradini sul velo di Moreira sia della Mirafine che del Ferentino intanto prova ad andarsene Alonso con Rossi di Ruzza Piccirilli in mezzo gli sfugge il pallone a Molitano ballancio lungo da parte di Fradini palla che colpisce il palo con le mani facendo in avanti soprattutto a Marcello Moreira il velo ci prova il gol strepitoso Marcello Moreira e fa 4 a 2 per la Mirafine il triplice fischio finisce qui Mirafine batte Ferentino per 4 a 2